16.5 minuti, favorevole, 16.01 che è aggiuntivo centemero, pagina 343, favorevole. A posto, Governo, 16.2 minuti, parere contrario di Commissione-Governo, favorevole del relatore di minoranza, è aperta la votazione. Ci siamo? Marazziti, Albanella, Boccadutri, ci siamo tutti? Sì, è chiusa la votazione, la Camera respinge, passiamo al 16.5 minuti, parere contrario Commissione-Governo, favorevole del relatore di minoranza, è aperta la votazione. Ci siamo? Chi è che ha detto no? Marzano ha votato ora? Sì, allora, ah, qua su, Boccuzzi, Boccuzzi a posto, Grillo, è chiusa la votazione. La Camera respinge, passiamo ora alla votazione dell'articolo 16, è aperta la votazione. Non vedo mani alzate, è chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'emendamento aggiuntivo 16.01 centemero, parere contrario, onorevole Palesi. Ah, è ritirato, scusi, non l'avevo capito. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 17, non ci sono emendamenti perché è stato ritirato l'unico 17.1, quindi passiamo ora alla votazione dell'articolo 17. È aperta la votazione. Bolognesi. 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 Bologna. Bello. Bolognesi.